Musica 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 Ciao ragazzi con TheGekersman La prossima carta che parlo di Clash Royale Cominciamo La prima carta che parla è il bocciatore, andiamo a sentire cosa dice Musica Quello che dice il bocciatore è Bowling, strike, bye bye Pare che è una metafora con la sua pietra io non so neanche per quale motivo credo che sia più che i lord dei scheletri siano i birilli La seconda carta che parla è il goblin cerbottaniere andiamo subito a sentire cosa dice Oka buka Si Oka buka Quello che dice il goblin cerbottaniere è oka oka e poi stanno sentendo i colpi di raffica che da sempre ma nessuno poi se lo aspettava ma si ragazzi lo dice Passiamo alla prossima carta La prossima La prossima La prossima carta che parla è il tronco Andiamo a sentire cosa dice Quello che dice il tronco è il log Log è inglese e vuol dire tronco Perciò sta parlando di se stesso e non ha senso Le prossime due carte che parlano hanno solo suoni ma la prossima carta che cioè questa sono i barbari vediamo quali suono hanno L'ultima Un'ultima carta che parla è inglese anche questa fa solo il suono ma andiamo a sentire quale il suono è Bene ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina Dalla Golden DJ Games Minecraft è tutto Ciao ragazzi